227 nuovi casi di covid oggi in Abruzzo, poco oltre l'8% dei 2792 test processati. I nuovi casi sono riferiti a persone d'età compresa tra 1 e 98 anni, 59 sono della provincia dell'Aquila, altrettante della provincia di Chieti, 91 del Pescarese e 15 del Teramano, mentre 3 provengono da fuori regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1.013. Si tratta di persone d'età compresa tra 38 e 104 anni, 8 in provincia dell'Aquila, 1 in quella di Chieti e 1 in quella di Pescara. Del totale odierno tre casi riguardano decessi dei giorni scorsi comunicati solo oggi alle ASL. 547 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo vi sono 15.991 positivi accertati, meno 330 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. 657 pazienti, meno 9 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 65 più 1 rispetto a ieri con 6 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 15.269, meno 322 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità.